Anticipazioni Beautiful Puntate italiane da domenica 3 a sabato 9 novembre, Taylor bacia Riz, Brooke furiosa e il ritorno di Taylor continua a creare problemi nelle prossime puntate di Beautiful, in onda dal 3 al 9 novembre Scendendo nel dettaglio, Brooke appare intenzionata a far pagare alla sua rivale di sempre quanto fatto in passato Ricordiamo che la Logan ha appena scoperto che a tentare di uccidere Bill è stata proprio Taylor, qualche mese fa A bloccare la donna ci pensano a Hooperidge, intanto, Liam è sempre più convinto del fatto che la sua ex suocera possa essere una persona davvero pericolosa Steffi, però, è disposta a tutto pur di salvare la madre Nel frattempo, Taylor si avvicina in modo particolare al dottor Riz Domenica 3 novembre Steffi è convinta che i suoi collaboratori, dopo il lavoro svolto per la sfilata, meritino un po' di relax Così, decide di organizzare un rinfresco, a cui prendono parte tutti coloro che si sono impegnati per la riuscita dell'evento Alla festa si presenta anche Taylor, la cui attenzione viene subito catturata dalla presenza di Reese Buckingham, il padre di Zoe Lunedì 4 novembre Brooke si confronta con Ridge, a cui svela tutte le sue perplessità su Taylor In particolare, la Logan non riesce a credere che il marito ancora non abbia compreso quanto la sua ex moglie possa essere pericolosa Il Forrester, cercando di difendere la madre di sua figlia, sembra vacillare. Dopodiché, ripensa quanto ha già sofferto Steffi, e sceglie di stare dalla loro parte Martedì 5 novembre Taylor crolla e ha una crisi. Visibilmente turbata, si confida con Steffi e Ridge, che cercano di farla stare meglio La donna, però, si sente come una donna fallita. Fuori controllo, si recca poi da Liam, a cui chiede di impedire a Brooke e Hope di denunciarla Mercoledì 6 novembre Zoe non è per nulla contenta di vedere il padre interessato a Taylor Infatti, la ragazza teme che l'uomo possa compromettere il suo lavoro. Intanto, Liam ha alcuni dubbi su Taylor e inizia a pensare che consegnarla alle forze dell'ordine sia la scelta giusta Steffi continua a difendere la madre a spada tratta e chiede all'ex marito di fare lo stesso Giovedì 7 novembre Brooke non ha intenzione di mantenere il segreto riguardante Taylor La Logan vuole confessare il tutto a Katie e Donna, convinta che anche loro debbano sapere la verità su chi ha tentato di uccidere B Hope, però, chiede alla madre di restare in silenzio, in quanto sa che se la notizia dovesse ancora girare Taylor finirebbe per pagare quanto fatto Venerdì 8 novembre Taylor rivede il dottor Reese, con cui sembra avere una grande sintonia Inaspettatamente, il medico la bacia. La madre di Steffi è sorpresa, ma comunque ricambia l'interesse dell'uomo, sebbene la cosa la spaventi Sabato 9 novembre Zoe viene a sapere quanto accaduto tra Taylor e suo padre. Questa situazione la preoccupa, poiché sa che l'uomo combina sempre qualche guaio La ragazza non vuole assolutamente avere problemi, soprattutto ora che si è riavvicinata a Sande Grazie a tutti